voi dovete scusare sia per la faccia visto che sono totalmente struccata scusatemi non è colpa mia ciao non è colpa mia ragazzi scusatemi a parte la faccia che va bene ciao ragazzi ciao a tutti ciao 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 sono anche tutta veramente sono in uno stato pietoso vi sto chiedendo scusa a dire la verità perché il video doveva essere online praticamente un'ora fa e purtroppo il wifi non mi funziona tipo quindi sta andando cioè dice che tra 6 minuti praticamente è caricato quindi vi prego aspettate non andate a letto aspettate un attimo c'è il blog dovete vedere quel blog così capite come mai di tante cose ecco ciao chiara ciao aiuto ciao a tutti ciao ciao tra parentesi sono anche strastruccata quindi perdonate la mia faccia orribile lo so i know ciao la gattina tifi tifi era qui un secondo fa ora aveva fatto vieni aspettate ciao ciao vieni vabbè vi è falsa sembra tanto sta ferma ho visto che michele è terzo in classifica cioè sono felice a dei livelli assurdi proprio no a rimini non l'ho fatto il vlog ho iniziato a farlo praticamente nella settimana in cui michele ha girato the days quindi troverete praticamente tutta tutta la volta quando siamo andati a fiugi insomma tutto il viaggio insomma cose del genere quindi lo dovete guardare per forza proprio sì ma appunto che palle però stasera bisogna parlarne per forza perché è nel vlog quindi lo vedrete hai rubato le tic tac al poccona al supermercato no allora vi devo troppo far vedere questo allora voi ora mi prenderete per pazza tra parentesi vi tengo qui così almeno voi aspettate e guardate il vlog dopo capito allora io vi devo troppo far vedere una cosa io ho la tipo questa libreria no tipo dentro c'è tutte cose normali quindi tazze cose del genere ma l'ultimo piano è proprio personale per le mie cazzate ecco allora cosa ci troviamo ci troviamo le tic tac al poccon che ho comprato assieme a sofia e quindi sono lì perché erano molto simpatiche poi cosa ci troviamo guardate cosa ci troviamo le reali gelatine mille gusti più uno di harry potter che ho comprato a londra sono proprio loro e ce ne ho due pacchi perché voglio farci una challenge con una con un pacchetto ancora non so con chi però ve lo farò sapere poi abbiamo la cioccorana aspettate ve la faccio vedere ho comprato la cioccorana io sono una malata di harry potter sappiatelo eh aspettate guardate vedi cioccorana e ho due cioccorane anche poi c'ho la bacchetta la bacchetta la bacchetta di ermione tipo no ragazzi con i the show potrei ma i the show sono troppo sono troppo duri per queste bici che cacchio vi fa secondo te i the show non fanno niente c'ho la bacchetta di ermione poi c'ho i bicchieri di butterbeer della burro birra ragazzi io io amo troppo queste cose aspettate allora vi faccio vedere questa io ho speso un botto di euro non mi ricordo quante o sterline quante cacchio hanno spese per questa roba arrivo eh allora guardate l'ho speso non so quanto per avere queste cose tiri 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 uno e due ve le faccio vedere perché veramente c'è meritano eh guardate eh sì 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 insomma io vado matta per harry potter sono molto molto pesante ammetto di essere un po malata sotto questo punto di vista ma da figata e presto dopo dovrò troppo fare qualche video su harry potter ora devo pensare bene a cose no cade tutto ok adesso che vi ho fatto vedere queste mie cazzate casa mia è piena di queste cazzate sappiatelo guardiamo a che punto è il video tre minuti aspettate vedete ancora tre minuti ragazzi stiamo qua ancora tre minuti così almeno voi immediatamente dopo vi collegate direttamente con youtube e vedete il vlog intanto adesso leggo i vostri commenti che non li ho letti per un pochino anche te vi ho matta per harry potter ma quanto è figo harry potter no vabbè io vado matta proprio ci dai uno spoiler sì ve lo do uno spoiler aspetta eh allora a parte questa che è l'immagine di copertina che penso voglia dire già tutto quanto guardate che bella immagine di copertina a parte questo tipo però uso solo le tazze non ci sono i bicchieri e ho il vizio cioè di bere un'unica volta nella tazza no ma voi dite sai avrà cinque sei tazze da stamattina ho fatto questa cosa guardate la quantità ho bisogno di sì vabbè vi posso far vedere tutto però ragazzi se no poi dopo non mi vedete il vlog comunque questo è questa è una parte del vlog che vedrete tra poco va bene sì Michele Michele è in tutto il video ve lo dico è proprio in tutto il video praticamente siamo stati assieme tutta la settimana quindi è tutto Michele praticamente però vabbè io mi diverto un botto con lui c'è tantissimo proprio e abbiamo fatto anche una challenge che va lunedì quindi vedrete anche quello allora ciao a tutti ciao 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 allora leggiamo qualche quanto manca quanto manca fermi tutti ragazzi due minuti ma che minuti sono questi non sono reali vabbè due minuti ragazzi due soli un giorno verrà in Sicilia spero tanto di sì spero tantissimo ciao Marianna che colla per ciglia sicuramente la duo la duo vai da mac compri quella anche se costa un po' di più però almeno non ti si staccano di sicuro sovisi fidanzata lo sapevi sì so tutto io so tutto verrai a lecce spero non lo so ragazzi cioè dovrei non so c'è una cosa in ballo molto 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 bella che non so se se poi andrà però se va è una bomba vi vengo a trovare vi vengo veramente a trovare stavi studiando bravissima ciao Gaia domani viene a Milano dai io non ci sono ancora non ci sono a Milano oggi cioè oggi oggi domani dopodomani non sono a Milano ma no che no non te la puoi perdere assolutamente anche perché tra un minuto è caricato il video aspettate però aspettate questo tra un minuto è caricato serve solo un pochino per l'elaborazione ma poco poco vieni a Rimini ma io c'ero pochissimi 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 settimane fa ti piace Verona tantissimo quanto costa la 2 non me lo ricordo sui 10 10 euro forse non so sì vi faccio sapere faccio sapere tutto quanto fa freddo un po' sì però io sono a maniche corte tipo perché sono una matta semplicemente puoi salutarmi ciao Asia ho già cenato si ho mangiato la pizza stasera al kamut però pizza con le verdure viene a Torino in realtà ci sono adesso a Torino quindi mi fa molto ridere questa cosa ciao ciao a Genova ciao Genova ciao Giada ragazzi un minuto ancora mamma mia questo video è una fatica tu e potta mi avete portato fortuna bravissima grande che non ti ha interrogato bello quando non ti interrogano ragazzi è caricato adesso c'è l'elaborazione stiamo assieme anche per l'elaborazione che dite o tiro giù la periscope elaborazione allo 0% fai un incontro lo spero ma dove lo devo fare l'incontro hai usato il mio metodo grande il metodo che veramente fa passare il singhiozzo sempre no che figa da struccata cioè guarda che faccia che c'ho lasciamo perdere lasciamo sta brutte robe proprio l'elaborazione ragazzi dai eeeh mamma mia è un parto sto video ve lo posso diri cioè è incredibile voi controllate se è caricato eh nel senso aggiornate il canale fate quello che volete andate su youtube vedete un attimo se c'è abiti vicino alle gru io alle gru mi piacciono tantissimo tipo quando posso vado sempre le adoro grazie ma che amori che siete ciao francesca si è colpa è sempre colpa di lui è sempre colpa sua come te lo da marty è caricato il video quindi vi da il video già aspettate no è impossibile si chiama vlog the days più pazzi di sempre no non lo vedete ancora ciao fra ma non ci credo ma come lo fa come fai a vederlo io non lo vedo ragazzi vedete ragazzi come fa a da perché a me non me lo da cosa dove è il problema dove sta il problema eh cioè non funziona tipo io ho già il link però non funziona ancora in elaborazione ragazzi facciamo una bella cosa eh aspettate allora provo un attimo a collegarmi con questo di qua magari si fa prima aspettate 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 l'iperico per gli akamete che hanno fatto non sono giù a catania tipo ciao giada si vede il video ragazzi ma non è possibile cioè allora c'è un computer che sta giocando totalmente contro di me lo vede anche un'altra ragazza vabbè ma meglio così cioè sono contenta se lo vedete io non lo vedo ma va bene così oddio davvero cosa oddio davvero di che parlate eh no io non so niente non vi posso dire nulla ah sta ah state parlando di Sofia vabbè allora ci sta ci sta gli akamete camminano su un filo va va ragazzi niente io sto aspettando che carichi speriamo che lo faccia in fretta e appena è caricato ve lo metto sui social ok facciamo una cosa ci risentiamo dopo magari intanto seguitemi sui social che appena è pronto il video ve lo carico cioè ve lo metto ok ora scappo che sto provo a vedere se funziona questo cavolo di video ci sentiamo dopo ciao ciao